Ciao a tutti, sono a casa di mia madre e oggi è l'ultimo giorno che passerò a casa che è domani mattina, partiremo per la Croazia, staremo là una settimana e la settimana dopo quando tornerò a Milano andrò direttamente in aeroporto e passerò per Gran Canaria, cioè andrò a Gran Canaria quindi oggi è l'ultimo giorno, mi è venuto uno schizzo di farmi un tatuaggio però prima mio fratello ha deciso che oggi dovevamo andare a suonare quindi adesso sto aspettando per andare a fare le prove, non suoniamo da tipo 6 anni, una cosa così io stessa non suonerò da un anno e mezzo, non in sala prove, intendo ovviamente in casa da sola le poverine però quindi farà schifo, no dai ci divertiremo e dopo andrò a fare un tatuaggio che non ho detto mia mamma l'ultima volta che mi sono fatto un tatuaggio mi sono fatto un pezzo sulla gamba tipo da qua a qua uno spartito gigante, avevo 19 anni e le ho detto mamma ieri sera ero in giro, ero super ubriaca e non so cosa è successo in un certo punto mi sono trovata in un posto con una luce eccecante e un ronzio stranissimo la notte continuavo a grattarmi la gamba, mi grattavo e grattavo, mi sono svegliata, guarda, l'ho fatta vedere lei tipo oh mio dio, quindi oggi farò una scena più o meno simile credo e se riesco a riprenderla perché i tempi l'avevo ripresa con la complicità di mio fratello ma ho perso il video purtroppo quindi ne farò una roba simile, anche se il tatuaggio stavolta sarà piccolo, tipo una cosa così oggi in questo video niente gattini perché Coca è rimasta a Milano le ho dato 150 euro per questa settimana e le ho detto arrangiati adesso suonare, tatuaggio, valigia per la Croazia e vedremo ah 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 Perchè l'hai detto? È una diretta Facebook Ciao Hai qualcosa da dire alla diretta Facebook Culo chi ascolta? Oh no E che valgo E quindi vabbè sono un fallito Era una storia triste E la faccia è sexy Vi dico solo che è single Tattoo, tattoo, tattoo Voglio dimostrare che tu alcune volte non mi credi e fai male Che non mi sembra Un'altra parte Ciao!